Ciao a tutti! Oggi mi trovo sullo Swan River, che è il fiume che attraversa la città di Perth. Perth è la metropoli più isolata al mondo, in quanto per raggiungere un'altra metropoli bisogna attraversare l'Australia, arrivare sull'altra costa, quindi percorrere più di 4.000 km, oppure prendere una barca, una nave e andare in Asia. Quello che vedete alle mie spalle è appunto il fiume che attraversa tutta la città di Perth e molto spesso, diciamo che nuotare in questo fiume non è proprio il massimo della sicurezza, nel senso che è capitato in passato di assistere a degli attacchi di squali. Infatti gli squali risalgono la corrente dall'oceano e molto spesso possono arrivare anche dritti in città, perché questo fiume arriva proprio nel centro di Perth. E quindi diciamo che l'Australia è un po' così, ci sono posti meravigliosi, stupendi, ma anche abbastanza pericolosi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!